Bentornati, oggi vedremo come combinare fra loro due o più oggetti, quindi quali sono le principali operazioni di costruzione che ci permette di fare Tinkercad. Bene, allora iniziamo subito importando due oggetti. Importeremo un cubo all'interno del piano di lavoro e un cilindro. Ok, in questo momento i miei oggetti sono separati tra loro, quindi facciamo finta che invece io voglio unire i due oggetti, ok, quindi ecco qua, li avvicino, li sovrappongo, bene, li sovrappongo per una certa percentuale, circa metà. Benissimo, in questo momento vedete le mie forme rimangono ancora separate, quindi io ho il cubo e il cilindro. In questo momento sono semplicemente vicine uno all'altra, perché da due forme diverse, se voglio, se seleziono una forma e la trascino, vedete il cubo rimane fermo, io sto continuando a spostare il mio cilindro. Quindi, se invece voglio creare una nuova forma che sia data dalla somma, quindi dal risultato della fusione del cubo e del cilindro, quindi idealmente una forma che abbia più o meno questo profilo qua, L'operazione da fare è molto semplice, dobbiamo selezionare entrambe le forme, come sempre la maniera più veloce è quella di creare e trascinare un riquadro di selezione, bene. Una volta che io ho le due forme selezionate, se ci fate caso, qui in alto è comparsa la possibilità di cliccare su questa finestra, raggruppa. Bene, ve lo faccio rivedere. Se le forme non sono selezionate, vedete, qui io non posso cliccare su nessuna di queste azioni, di queste funzioni. Nel momento in cui seleziono due forme, eccolo qua, mi è comparso il tasto raggruppa. Se clicco su raggruppa, ecco qua, guardate cosa è successo. La mia forma è data sempre dall'unione del cubo e del cilindro, però come potete vedere è diventata una forma unica. Quindi in questo momento io ho creato una nuova forma sommando le due forme base di partenza. Bene, a questo punto cosa posso fare? Posso ritornare indietro, sempre selezionando l'oggetto. In questo momento ho la possibilità di cliccare l'icona accanto, separa. Quindi proviamo, cliccando su separa, ecco qua, sono tornato al punto di partenza. Cubo e cilindro. Naturalmente questa operazione può essere fatta con anche più di due forme, quindi proviamo a fare una forma un po' più complessa. Proviamo a mettere insieme alcune delle funzioni che abbiamo visto prima, per esempio a sovrapporre questo cono a questo cilindro. Bene, e poi mischiare o comunque unire insieme il cubo, quindi creare una figura del genere. Ok, quindi la cosa sempre da controllare è la sovrapposizione delle varie figure. Qui come vedete, facendo un po' a occhio, il mio cilindro non è perfettamente fuso con il cono. Il consiglio che mi sento di dare è sempre di controllare da più viste, non da una sola, che le forme siano sovrapposte. E se fate la fusione di due o tre forme, che queste si tocchino, insomma, una entra nell'altra almeno per qualche millimetro. Cioè non appoggiatele solamente una all'altra, ma cercate di far sì che queste si compenetrino una all'altra. Benissimo, quindi facciamo finta di voler unire in un'unica figura queste tre forme che ho avvicinato tra loro. Quindi con il tasto Group, ecco qua, ho la mia figura. Questa figura a questo punto la potete trattare come fosse una qualsiasi forma. Quindi, per esempio, la posso ruotare. O a sua volta, se questa fosse una parte di una figura più grande, posso andare ad unirla nuovamente con altre forme. Bene, quindi facciamo finta di volerla unire anche con questo poligono. Troviamo la via giusta, come vi facevo vedere prima, quindi di ruotare per gradi o in maniera più uniforme. Benissimo, quando più o meno sono soddisfatto del mio risultato, continuo a raggruppare. Bene, in questo modo ho la possibilità, poco alla volta, di costruire forme sempre più complesse. Se una di queste forme non è nella sua posizione giusta, non è la forma che volevo, o comunque vedo che andando avanti nella progettazione era meglio selezionare un'altra figura oppure metterla in maniera diversa, posso tornare indietro un po' per volta con il tasto Separa. Quindi con questa operazione mi separerà l'ultima forma che ho unito. Se ripeto nuovamente, queste sono state unite tutte insieme e quindi ecco qua che mi ritornano tutte le forme da cui sono partito. Bene, torniamo alla visione, dalla vista iniziale, puliamo il piano di lavoro e vediamo cosa succede quando si va a raggruppare una forma piena con una forma vuota. Quindi facciamo esattamente la stessa cosa, uniamo il cilindro al cubo, questa volta, mi avvicino per farlo vedere meglio, eccoci, questa volta il cubo è un solido mentre il cilindro è un vuoto. Bene, selezioniamo entrambe le forme, facciamo raggruppa e quello che succede è questo. Il vuoto è stato sottratto dal pieno, quindi vedete la parte occupata dal cilindro è stata sottratta. Naturalmente niente si perde, se seleziono il cubo, vedete, si è riattivata la funzione Separa e posso tornare alla vista di prima. Quindi se voglio andare a rimuovere un angolo rispetto alla zona centrale, posso farlo tranquillamente. Ecco qua. Benissimo, questo è il principio base di lavorazione su questo software, quindi con le operazioni di somma e sottrazione, voi potrete costruire tutte le figure che volete. Bene, quindi andando a mischiare insieme queste due possibilità, quindi la possibilità di scegliere se i solidi, scusatemi, se le forme sono dei solidi o dei vuoti, proviamo a fare il contrario giusto per farvi vedere, voi potete andare a costruire le figure che vi interessano. Ecco qua. Per farvi capire meglio, proviamo a fare un esercizio pratico, quindi ritorniamo alla vista di base, cancelliamo quello che abbiamo sul piano di lavoro, ecco qua, proviamo a costruire una tazza. Bene, quindi utilizzerò solamente queste due operazioni, raggruppa e separa, se ce ne sarà bisogno, e mischierò insieme forme piene e forme vuote, utilizzando tutto ciò che mi serve è all'interno del menu forme di base. Questo può essere poi anche un primo esercizio per fare un po' di pratica di costruzione. Bene, allora partiamo. Per costruire la mia tazza, prima di tutto, mi serve una base. Importo una semisfera. Quindi diamo un valore di base di 25 per 25. Bene, quindi 25, devo aumentare questo lato, quindi posso andare a fare semplicemente così. Bene, in questo momento la mia figura è 25 per 25. Posso andare a schiacciare leggermente sull'asse Z. Benissimo. A questo punto andiamo a prendere un'altra figura che può essere il paraboloide, che servirà da struttura per la mia tazza. Naturalmente il mio paraboloide dovrà essere un po' più grande, e quindi vado a scalarlo in maniera uniforme utilizzando il tasto Shift. Ok, una prova. La mia tazza, l'apertura della mia tazza dovrà essere verso l'alto, quindi vado a ruotare il mio oggetto di 180 gradi, eccolo qui, e adesso passo a sovrapporlo alla base. Posso alzarlo leggermente. Ecco qua. Quindi ho la struttura di base della mia tazza, quindi posso intanto unire queste due forme, in modo che tutto ciò che andrò ad aggiungere o a sottrarre non mi alteri questo primo allineamento che ho creato. Ecco qua. Se non mi piace il colore in cui viene visualizzato, lo posso anche cambiare. Voglio vederla gialla, la mia tazzina. Perfetto. Per essere una tazza cosa ci manca? Ci manca sicuramente una maniglia, un punto per prenderla, e posso usare un toro per far questo. Bene, solita operazione. Ruoto la mia maniglia, eccola, in questo caso di 90 gradi, in modo che si fonda all'interno della tazzina, la alzo, la avvicino. Ecco, questo è sempre una cosa abbastanza delicata. Cercate sempre di controllare da più punti di vista l'attacco. In questo momento, forse, se dovete fare piccoli accorgimenti, vi conviene farli con il tastierino, le frecce della tastiera, piuttosto che con il mouse. Quando siete soddisfatti del risultato, direi che si può... Ecco, forse così è un po' meglio. Ripetiamo la solita operazione. Quindi andiamo a selezionare tutto e a raggruppare. Ecco, è diventato tutto giallo, ci può volere qualche attimo. Cosa manca alla mia tazza? Manca la parte dell'incavo. Quindi andiamo a prendere nuovamente un paraboloide, lo ruotiamo a 180 gradi. Ecco, se vogliamo andare nella vista frontale... Scusate, eccoci, in vista frontale. Possiamo scalare un po' anche questo, meno di quello, ovviamente, della parte esterna. La parte esterna, se vi ricordate, l'ho scalata a 35 mm di diametro, quindi posso scalarla intorno ai 30, probabilmente. E' sempre un'operazione... Eccoci, 30 e 30, scusate. Benissimo, a questo punto, per far sì che scavi l'interno della mia tazzina, il mio paraboloide da solido deve diventare vuoto. E adesso posso, innanzitutto, alzarlo dal piano di base, dopodiché andare a sovrapporlo. Ecco qua. Cerchiamo, dalla vista alta, di centrarlo al meglio. Benissimo, più o meno. Se voglio essere preciso, utilizzo le frecce. Ricordatevi, il solito discorso della griglia di snap. Qui, adesso, si vede bene, ci avviciniamo un po'. Bene. Questo lato, probabilmente, è un po' più sottile rispetto a questo. Se un millimetro è troppo, posso provare a muovermi con uno 0,25 di margine, in modo da centrarlo meglio. Ecco, così ci piace già di più. Poi torniamo al millimetro, per comodità. Benissimo. Adesso, seleziono, quindi, ho scelto la parte da scavare, seleziono la parte vuota e la parte piena, e vado a raggruppare. Eccolo qui. In un attimo, ho ottenuto la nostra tazzina. Semplicemente, come avete visto, con le operazioni di somma e sottrazione, mischiando solidi e vuoti. Perfetto. Con questo si conclude la lezione, e vi lascio con la prima esercitazione, quindi, diciamo, siamo arrivati a un primo step di questo corso. La lezione che vi lascio è quella di costruire un tavolo in due modalità. Spostiamo la tazzina. Utilizzando un cubo, ve li porto giusto per semplicità sul piano di lavoro, dovrete costruire un tavolo utilizzando un cubo e tre cilindri. Vedi l'importo. Uno, due e tre. Oppure, dovrete costruire successivamente, dovrete costruire un tavolo utilizzando tre cubi. Naturalmente, potete anche provare a ricostruire la tazzina e a farla a gusto vostro. Bene, però, diciamo che l'esercizio per cercare di vedere se tutto quello che abbiamo visto finora è chiaro, è quello di costruire un tavolo in queste due modalità, utilizzando prima un cubo e naturalmente quattro cilindri, non tre, mi sono sbagliato, quindi un cubo e quattro cilindri. Dopodiché provare a disegnare un tavolo utilizzando solamente tre cubi, quindi senza aggiungere nessun'altra forma a quelle che vi abbiamo dato. Bene, grazie, buon divertimento e buon lavoro! Grazie, grazie! 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 Grazie!